Ciao a tutti ragazzi qui per Anormal Comics e benvenuti in questo nuovissimo video Era da un po' che non ci vedevamo, avete sicuramente visto i video di Gaetano e Alessia Sono ancora in vacanza, sono lontano, ma non per questo io ne dico non sono riuscito a trovare le calciatori anteprima ragazzi Qui ci sono 9 pacchetti, in realtà come potete vedere da parte ne ho altri 9 che faremo in un altro video probabilmente Non so se con Gaetano e Alessia quando tornerò dalle vacanze perché vi avvertiamo stiamo per tornare tutti insieme Tra non molto ragazzi, e niente volevo provare anche io questa bellissima collezione e direi di partire subito con il primo pacchetto Non so che aspettarmi perché devo dire la verità non me lo sono voluto spellerare né da internet né dai profili social di Panini Né dai video che hanno fatto i miei colleghi, allora ci darò un'occhiata insieme a voi per la prima volta Allora, anteprima dei giocatori dell'Atalanta, devo dire niente male, con Muriel, devo dire, secondo me in ottima forma Anteprima di Romero Lukaku che ha poi tornato, ragazzi sono nuovissime queste figurine Cioè, io non so come facciano a stampare la figurina di Romero Lukaku che è arrivato l'altro ieri, letteralmente Però, grandissimi i Panini, hanno fatto un lavoro bellissimo, guardate Lukaku che è tornato tantissima roba Poi abbiamo Club Identity, sempre l'Atalanta ragazzi, oggi tema Atalanta, devo dire, niente male Poi New Anteprima, ah Mandragora ragazzi che è andato ovviamente alla Fiorentina Poi abbiamo lo stadio del Sassuoli, il Mappei Stadium se non erro, Gaetano è più ferrati miei ma credo sia giusto E poi Federico Chiesa alla Juventus, ragazzi un focus sul giocatore, beh devo dire, niente male, numero 96 Le figurine sembrano delle buone figurine, nulla di particolare, nessun rilievo, nessuna cosa particolare Però, ragazzi, devo dire, per essere una collezione in anticipo sui tempi, effettivamente molto molto aggiornata E questo mi fa sempre piacere dentro una collezione, diciamo che quando sono più aggiornate puoi sempre immedesimarti di più all'interno di quelle che sono le figurine, i calciatori Poi abbiamo Juric, ragazzi, dell'Elas Verona Abbiamo Damsgaard, della Sampo, un altro focus Poi adesso un'anteprima sui giocatori dell'Inter, ragazzi, in questo caso la difesa, devo dire, niente male, niente male Ci sta di peggio, devo dire, l'Inter è una bella squadra Anche la Juve Ragazzi, il Monza che quest'anno ha fatto degli acquisti superlativi, vediamo se qui ne vedo qualcuno di loro, effettivamente Vabbè, ci sta Carboni, ragazzi, Cragno, Caldirola, ragazzi, ci stanno veramente degli ottimi giocatori del mondo Mi sa che non hanno messo ancora tutti gli acquisti, ma sono stati veramente tantissimi uno dietro l'altro È difficile stare dietro a tutto il mercato che ha fatto il Monza squadra che, secondo me, si salverà anche se è partita un pochino male Poi abbiamo Illich, che è rimasto, al contrario di Barak, all'Elas Sinceramente al Fanta mi sarebbe piaciuto averlo, ma quest'anno, ragazzi, ho deciso forse di non fare il Fanta Perché ho veramente pochissimo tempo e vorrei dedicarmi a tante tante cose E quindi non è semplice stare dietro a tutto Questo pacchetto lo smembro, lo distruggo Lo magno proprio E adesso vediamo chi trovo Allora, abbiamo lo Spezia, ragazzi, da me si completa abbastanza facilmente questa collezione Uh, anteprima dell'attaccante, attenzione per Ozyman Niente male, 3,93 di media, di regola, tiri ogni 90 minuti in campo Beh, 4 tiri in pratica ogni 90 minuti, devo dire, niente niente male Mi sarebbe piaciuta anche una media goal, credo non ci sia dietro Però numero 6, credo sia in una parte, diciamo, speciale, di una sezione speciale dell'album Poi quando l'attaccheremo, ragazzi, ovviamente ve le faremo vedere Club identity con la squadra dell'Empoli, niente male Attenzione, altri attaccanti con Ciruzzi No, è che sto dicendo Sì, è Ciruzzi Immobile, pensavo fosse il Sergente Invece no, è Immobile Eh, 0,85 ogni 90 minuti in campo È vero, Immobile non tira tantissimo Ce ne siamo accorti, direi, più che sufficientemente con l'Italia Però dai, non lo penalizziamo È comunque un attaccante fenomenale È un giocatore straordinario Poi abbiamo Marcos Antonio Che è un nuovo giocatore della Lazio, a quanto pare Non l'avevo sentito questo colpio di mercato Uh, club identity Eh, vabbè, ragazzi, a Bologna è bellissimo lo stadio, veramente Una volta della vita vorrei andarlo a vedere Chiederò pure a Gaetana Alessia se vogliono andare a Bologna a vedere lo stadio Ma credo andremmo per vedere anche altro E poi magari lo stadio in particolare Poi, ragazzi, abbiamo l'anteprima Del Lecce, ok, questi tre C'è questi giocatori Poi Lukaku doppia, ok, prima doppia, ragazzi Poi Matic per la Roma Io vorrei di Bala, ragazzi Mamma mia, ci sta sicuramente Se non erro, poi abbiamo Vediamo Lobotka Se non erro che si allena per il Napoli Devo dire, foto molto, molto particolare Ok, va bene Poi abbiamo Koulibaly, la Sana Per la Salernitana Un focus Un focus tutto Tammi e Abram, ragazzi Sta giocando veramente, veramente bene Fatemi sapere qui sotto nei commenti Che pensate della Roma di quest'anno Io dico che questa Roma Non per gufare C'è da tifo Napoli Lo sapete, ragazzi Tifiamo tutti e tre Napoli Effettivamente Ma, ragazzi Secondo me questa Roma È da scudetto quest'anno C'è, ha fatto veramente Dei bei acquisti Adesso ha preso anche il Gallo Belotti Che gli vuoi dire alla Roma? Che gli vuoi dire? Quest'anno, secondo me Sarà il loro anno E Murigno È un grandissimo allenatore Poi abbiamo Joan Quadrato Per la Juve È un focus Poi Salernitana Con i giocatori Tra cui anche Frank Riperì Subito riconoscibile Osimè Mi sa che è un'altra doppia questa? No, forse no Su quel focus Su Osimè Quindi no Abbiamo dato l'attaccante prima Quindi molto molto bene Poi abbiamo Lo Spezia Con il suo stadio Abbiamo Un bellissimo Diciamo focus Sopra Alla parte difensiva Della Roma Con Casdorp Mancini Smolling I Bagnez E Rui Patricio Ragazzi Fenomenale Se non è la Roma Poi abbiamo Raspadori Che in realtà qui Il focus è divertente Con la maglia del Sassuolo Ma effettivamente Proprio una notizia Di ultimo mercato È andata al Napoli Ragazzi E adesso farà in pratica il sostituto Forse giocherà insieme A questo signore qui E devo dire che Raspadori È vero che alle soldi Mi ha segnato per poco Perché gli è stato parato il tiro L'ho vista ieri In Napoli-Fiorentina Però ragazzi Raspadori secondo me Al Napoli potrà veramente Fare molto molto bene È un giocatore Secondo me Che ha tutte le caratteristiche Per essere da Napoli Allora Fateci sapere se volete Qualche commentare Sulle partite Che gioca il Napoli O di altre squadre Magari potremmo portarli A Gaetano Allora Duvan Zapata ragazzi Con l'Atalanta Guardate qua Fighissimo Un giocatore fenomenale Un mostro Simulo i bastoni Dello Spezia Poi abbiamo Kivior ragazzi Jakub Kivior Focus Dello Spezia Lui non lo conosco Neanche lui Il Mand No Poi Smalling ragazzi Per la Roma Niente male Come Focus E poi ragazzi Un pochino di Lazio Che con i Sai E gli altri non fa Niente niente male Devo dire Però queste figurine In complessivo Devo dire Mi stanno soddisfacendo Mi piacciono abbastanza Sono delle belle figurine Papanini si è dedicata Ha fatto secondo me Un ottimo lavoro Per il precampionato E l'inizio del campionato Certo Poi a dicembre Voglio proprio vedere Quale sarà la collezione Di quest'anno Ufficiale Diciamo Della panina Questa più ufficiosa Che ufficiale Questa Però ragazzi Voglio proprio vedere Che cosa caccerà La panina a dicembre Per superarsi Centrocampista 11 737 11.000 No 11,737 Credo Sì Di mani 3 km percorsi Che sono comunque tantissime Ogni 90 minuti in campo Cioè questo qua si fa 12 km A partita a Brozovic Ora capisco Perché nell'adrenaline A quanto pare Ci avete scritto Che l'hanno fatto top player E direi che ha tutto il motivo Di farlo Allora Raffaele È proprio una pagina Da aprire a parte Cioè Goal più assist 0,69 Ogni 90 minuti in campo Cioè in pratica Alla media O di un gol O di un assist a partita È un giocatore fenomenale Cleventi Con la maglia Ci sono anche le maglie Ragazzi E l'Empoli La vodka Che si allena Se la possono tenere Fino alla fine Della Juve Ragazzi Niente male Il club identity E poi Abbiamo come focus Arnautovic Per il Bologna Niente male Abbiamo ancora qui Due pacchetti ragazzi Andiamo ad aprirceli E vediamo Che cosa troviamo All'interno Allora Aprendo qui Chi troviamo Subito Monza Finalmente Un giocatore ragazzi Dani Mota Non so se giochi ancora Ma effettivamente ci sta Poi Luis Muriel Giocatore fenomenale Giocatori della Sampdoria Miguel Veloso Augustin Augustin Credo Alvarez Poi Ahmed Traoré Ragazzi Fortissimo Del Sassuolo Andiamo con l'ultimo pack E vediamo Che cosa troviamo All'interno Allora Lo apriamo Non so se con un box Si possa completare Effettivamente questa collezione Al cui io ce l'hanno chiesto Non lo sappiamo Appena lo sapremo Ve lo faremo sapere ragazzi Ok Giocatori del Lecce Dello Spezia L'attaccante ragazzi Il Muriel 3,32 occasioni Ogni 90 minuti in campo Diciamo che ho statistiche diverse Per ogni giocatore Per far risaltare al meglio Quello che sono le caratteristiche Di ognuno di loro Quindi nessuno di loro Diciamo si può paragonare a un altro Perché le statistiche Sono effettivamente diverse Però Tanta roba secondo me Poi abbiamo Attenzione Raffaeltolò Molto bello questo primo piano Bandiera dell'Atalanta Molto molto bella Poi abbiamo La maglietta Della Cremonese Che in realtà Tipo stilizzata In versione Non saprei definirla Molto particolare Disegnata Molto bella Secondo me ci sta Lo stile un po' fumettoso Come negli anni scorsi Con gli avatar Nella collezione ufficiale Poi Antonio Sanabri Ragazzi Il Torino è il nostro Ultimo giocatore Per questa apertura Beh Devo dire mi sta soddisfacendo Questa anteprima Abbiamo altri 9 pacchetti Da aprire In un prossimo video Non so se con Gaetana Alessia Oppure da solo Io spero comunque A questo video vi sia piaciuto Se così è stato Lasciate un bel like Iscrivetevi se ancora l'avete fatto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella